Ecco, mi spiace che non c'erano l'ex maestro di strada, si chiamavano così vero, rimasto la strada, i bambini di strada. 20 anni ho avuto una domanda, tutti voi forse sapete sicuramente perché siete a tendere alle altre domande scolari, ma meglio forse non sarete qui, ma io ve lo ricordo, se qualcuno non lo sa, è vero, lo sa, è anche prima, va bene, sapete, che qualcuno non va, è qualcosa di strada. Il governo dei poteri popoli, cioè il governo del mondo, io lo sapevo scritto da Odin, non è indicato che non si potrebbe poteri popoli, quelli che non lo vanno trovare. E' un'altra cosa, su di idee, diciamo, della sua rispettiva, nel momento in cui si stava per approvare il Parlamento, da quelle che loro chiamano la destra di Stabilità, perché in Italia ne sono tanto pensate alla loro Stabilità, ma un povero la estra di Stabilità, chiamano la destra di Stabilità. Questi signori, invece, erano un'operazione che muovono un punto, come dire, attive. Due personaggi, in maniera, come dire, molto, cioè, così, si sono svezzata, no? Si inizia di una stanza e decidero, perché c'erano gli amici da pregnare, gli amici da portare, perché loro sapevano benissimo che si stava per arrivare alla fine del loro, della loro esistente, sapevano che entrò un po' ci sarebbe stato il voto. E qualcuno sapeva fare, quelli che non avevano capito, di spiace, per loro, ma c'era qualcuno che aveva capito che il Signore non ci sarebbe. Io, allora, ti seguo il Signore di Stabilità, non per questo problema, perché penso di esistare, infatti, in politica, si sarebbe, cioè, si sarebbe molto, a pensarci bene, a fare solito capire, ci sono amici, tutto quello che poteva, e quindi, facendo la Chiesa di Stabilità. Questa è la considerazione di questo libro. Di Marta, di Marta, un certo, il Cosimo Barretta, del Partito Democratico, insieme a un Signore, se ti voglio conoscere, per portarla, Renato Brunetta, il popolo delle libertà, in una stanza, con una ostigna, con uno stradagema, da economista tremendissimo, togselo, la resiste di stabilità, cioè, fece in modo che non andassene anche al voto, e strappolavano 100 milioni di euro, da dare tre, immediatamente, subito, ma subito, il giorno dopo, alla scuola di Marta, quello che voi voi chiamate, chiamate la Rilla, che chi si sta chiamate? Di Marta. E soprattutto la storia di Cristo. E' stata fatta qui, è successo, e io ho rischiesto, sono tutti i termini, un po' con mondo e padre, una niente, in una roba del segno, cioè, come fai a fare una cosa così? Uno, ma, voi vi dite che l'ora è messa sempre fatta, ma c'è che si è sempre fatta, vi ricordate la domanda, la vendita dei senatori e del deputato, e se voi conoscevate, non si chiama Sergio Di Gregorio, che si deve conoscere, presentarlo, e beh, quando successe una cosa dedicata, e ti assisti a fondo, il grattere, l'istimo governo di Robi, immediatamente, dopo qualche mese, vi ricordate la famosa collega, intervento e sempre passa di un'euro, che il governo Robi immediatamente trovò, in più aggiuntivi da dare la scuola, per l'Italia, tutti gli danno uno scambio, per la parte del mondo della recita, gli uomini si sentiscono, e l'azionismo, lo disse il peggnome, per bocca di una certa malattia, come si chiama, Garabaglia, per lo stesso, benissimo, per lo stesso, per lo stesso, per lo stesso, ma, per l'Europa, la Valeria, è 556 milioni di euro, 556, ed erano tutti, quindi, questa roba qui, è una roba, che, è sempre, fatta, sempre stata fatta, noi, siamo sempre, più diversamente, più diversamente, più diversamente opposti, e noi dobbiamo, stare a vedere, su queste cose, che avevano, con le mie amrette, anche i soldi, sotto parco, arrivano, a film, alle scuole, alle scuole professori, sulla scuola dell'infanzia, bella casa, la Repubblica, ma una costituzione, la Costituzione dice, che fa perché, la Repubblica, istituisce le scuole, più ammigrano, e, nel bene del mar, nel mar, che non è la Repubblica, che è la scuola, più ammigrata, che è istituita, ma non avrebbe mai, che tutti istituti, quello che, già è la costituzione, e io, e io, addirittura, di tutti, interventa, la Costituzione, che sono parte, dai maggiori, scoletti, politici, di allora, già, in terra, la Costituzione, è messo questo problema, con forza, con chiarezza, che era quella della scuola, la terra, ma non è la scuola, la terra, adesso è scuola, l'infanzia, ok? Benissimo, la Repubblica, non rispigliura mai, scuole, l'infanzia, perché, non è una scuola, dell'olio, ok? E allora, la storia dell'infanzia, nonostante la morte, alcuni, esponenti, che, la costituzione, non erano, dei vicini, ma erano, i laici, del partito, dell'azione, erano altre persone, altre persone, quelle di un'altra cultura, che avevano posto, il problema, ma a questo che, dobbiamo fare, nella scuola materna, un servizio, domande individuali, e di questo ci tratta, e allora, il problema è, che la scuola, dell'infanzia, secondo, del coordinamento, del centro educativo, deve diventare, obbligatorio, non solo la persona, ma subito, ma non perché siamo, i genitori, che vogliono risparmi, dei bambini, e ci manca il gran cuore, ma perché, crediamo fortemente, bene, fortemente, perché ce la insegniamo, già di tornare a me, crediamo fortemente, che la scuola, dell'infanzia, è una scuola, con tutta la scuola, di unità, e non c'è bisogno, di imparare, perché la scuola, non c'è bisogno, la scuola, si imparca, se non c'è bisogno, d'altro, l'insegniamo, che ciò che ha detto, si imparca, quindi, è scuola, quindi, non possiamo dire, che la scuola, dell'infanzia, o la scuola, del popino, perché è un partito, no, ma perché, quello è il modo, è il migliore modo, di fare scuola, innanzitutto, quindi, dobbiamo, lottare, perché, viene la scuola dell'oppo, nel momento, in cui, diventa la scuola dell'oppo, dobbiamo limitare la scuola, la scuola dell'infanzia, nel momento, in cui, in cui, in cui, in cui, in cui, la scuola dell'oppo, ciò che gli amano, in una costruzione, se nel frattempo, non ce la cambiano, perché, dalle pubbliche, si istituite, le scuole di umidità, le si istituite, anche le scuole, dell'infanzia, e così, la possiamo finire, con la scuola, le scuole validarie, o primate, o non statate, o che sempre, le scuole validarie, perché, in questo modo, in questo modo, in questo modo, che ci ha risolvato, di stabilità, e non ci possono, più garantire, né le sezioni, di scuola dell'infanzia, né la scuola dell'infanzia, che possa, veramente, includere tutti, non nel senso, in cui, ma, iscriverli tutti, e quindi, non fare, che ci sia di attesa, però, questo, forse, è che non risolvano, il problema, ma la valutazione, è molto, molto, difficile, e lunghissima, ci potrebbe, essere i primi, però, cambiamo la forza, di farlo, con quelli, i bambini, non con questo, al palito, con questi bambini, queste, tutte, in questo momento, però, non possiamo, passare a farlo, se ci vediamo, dobbiamo, dire, queste cose, ma, dite, con forza, e allora, a questo punto, benvengano, le stensioni, del mondo, e la sua, e le pazze, e non vogliamo, diciamo, ormai, a questo punto, che, le nostre, famiglie, i nostri, i bambini, se i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, le nostre, i bambini, i nostri bambini, dove, se si, perché, non possono, andare a scuola, da il tre, e i tolto, a noi, e allora, questi altri, se ne hanno, i bambini, se ne avevano, queste cose, da dire, forse, da qualche tempo, c'è anche il duro, ma, sicuramente, quella sera, è la prima, non le poterà, dire, non le poterà, di niente, e gatti meni, non le poterà, non le poterà, se ne avvicina. come, l'abri, le poterà,